La nostra consapevolezza è quella di voler andare a fare la partita per ottenere un risultato positivo perché penso che abbiamo le qualità per poterlo fare. L'allenatore avversario ovviamente non si conosce, non conosciamo il Venetia di Zenga, è più difficile fare comunque la tattica quasi contro la squadra avversaria in questi casi? Come si è preparato, mister? Potrebbero usare diversi modi di presentarsi alla gara, ma dico spesso ai ragazzi che noi dobbiamo essere pronti a quello che succede in campo perché noi possiamo decidere quello che abbiamo intenzione di fare, ma non possiamo farlo in base a quello che decidono di fare gli avversari perché sono liberi di cambiare in ogni momento e quindi la bravura nostra deve essere quella di arrivare con la massima concentrazione e determinazione perché sicuramente sarà una partita difficile, ma ripeto, noi dovremo fare di tutto per uscire con il risultato positivo. La lunga sosta queste due settimane dopo le due sconfitte, come sono state vissute dal gruppo? Comunque le due sconfitte, c'è stata adesso la pausa, cosa è successo in queste due settimane? Noi ci siamo allenati, ci siamo allenati tanto, ci siamo allenati bene, continuiamo a lavorare con grande passione, con grande entusiasmo, ovviamente avremmo voluto affrontare questa sosta con alle spalle non due risultati negativi, ma sicuramente due risultati positivi, però come in tutte le cose, anche nelle vittorie, lo stesso abbiamo fatto nelle sconfitte, proviamo ad analizzare le partite con lealtà, quindi riconoscendo quello che di buono è stato fatto, e penso che siano state fatte tante cose positive, e provando poi in futuro a cercare di limare i difetti che ogni partita sicuramente ci fa notare. Chiedo una curiosità, sei stato anche psicologo in queste due settimane con il gruppo, si è approvato a lavorare anche sulla testa dei giocatori? Io provo a farlo quotidianamente, perché ovviamente quando è un gruppo composto da tanti giocatori, ognuno ha il suo carattere, io non ho intenzione di cambiare il carattere di nessuno di loro, però abbiamo tutti quanti il desiderio di voler costruire una squadra forte, perché abbiamo degli interpreti bravi, non ci dimentichiamo che abbiamo anche diversi ragazzi giovani che hanno delle qualità, ma che sicuramente si trovano in un ambiente con tante aspettative, quindi non è facile per nessuno, però sono convinto che questo mix, quando riusciremo a trovare l'amalgama giusta, saremo in grado di essere protagonisti di questo campionato. Ha parlato di amalgama, io le pongo un'altra questione, quella dell'ossatura, 21 giocatori in 8 giornate, questo è un po' il dato, queste due settimane magari le sono anche servite per trovare un'ossatura, alcuni riferimenti in più? Ma io quando parlo di amalgama non parlo di voler trovare 10 giocatori che poi disputeranno 40 partite, perché penso sia impossibile, impensabile, noi abbiamo un numero giusto di giocatori rosa, e quindi la mia bravura deve essere quella di saperli proporre a turno, perché tutti quanti hanno le qualità per poter far sì che questa squadra, cioè il Verona, possa essere protagonista di questo campionato, quindi ovviamente quando le cose, ci siamo già detti tante volte, quando le cose possono andare meno bene, si cerca di trovare quali possono essere le cause, però io sono convinto di quello che noi stiamo facendo, e abbiamo intenzione di migliorarci, perché lo possiamo fare tantissimo, ma sicuramente sono altrettanto convinto che tutti quanti saranno importanti per questo percorso. Come cambia il Verona senza Matos? C'è anche questa urgenza poi da affrontare con il Venezia? Ma Ridder è un giocatore forte di questa squadra, è stato protagonista di questi inizi di campionato, è un peccato averlo perso, perché stava facendo molto bene, non solo nella partita in cui poi è uscito, e ovviamente c'è mancato, però stava facendo molto bene gli allenamenti, era in continua crescita, perché è un ragazzo che ha delle potenzialità enormi, che non è abituato a fare le partite piene, ma che stava provandoci, che quindi sicuramente stava facendo grandi cose, ma come ho detto poco fa, proprio per il mio modo di intendere questo sport, ovviamente io ho una squadra a disposizione, nella squadra ci sono tanti interpreti bravi, che sicuramente sapranno sostituire al meglio Ridder. Ciao mister, buon pomeriggio, ben ritrovato. Ciao, buongiorno. Si parlava appunto di Ridder, che è sicuramente il giocatore che in questo inizio di stagione ha dimostrato le qualità più importanti, ti chiedo quanto pesa la sua assenza, ma soprattutto quando pensi di poterlo riavere a tua disposizione? Purtroppo in quegli episodi, ovviamente che è stato uno dei diversi episodi sfortunati della gara, abbiamo perso un giocatore importante per noi, perché stava dimostrando che con il lavoro e con la disponibilità, stava crescendo di partita in partita, e sicuramente con le caratteristiche che ha, nel modo in cui stava interpretando le gare, era un nostro punto di forza, però sono convinto che all'interno della Rosa noi abbiamo tanta qualità, con tanti interpreti, e che saremo in grado di saperlo sostituire bene. Per quanto riguarda il suo recupero, sicuramente non sarà a disposizione per questa partita, e con ogni probabilità non credo sia neanche per la prossima, e mi auguro di poterla avere poi per le partite a seguire. Spazio quindi, Antonino Raguso, dal primo minuto a Venezia? È una delle possibilità, sta crescendo, è arrivato nel finale, quindi nell'ultimo campionato non aveva avuto grandissima continuità, però è un ragazzo che ha delle grandi potenzialità, lo ha già dimostrato in questa categoria, e io sono convinto che riuscirà a dimostrarlo anche quest'anno in questa squadra. Esodo giallo-blu, bruciati i 1.352 biglietti a disposizione, l'ennesimo segnale di affetto verso l'Elas Verona. Questo per noi, come lo ripeto dal primo giorno, è un grandissimo segnale, perché se mai ce ne fosse stato bisogno, ci fa capire il calore e la voglia che hanno i nostri tifosi di voler tornare ad essere protagonisti. E noi abbiamo un solo modo per poterli ricambiare, quello di lavorare quotidianamente con grandissimo impegno, e provare ad ottenere dei risultati, cosa che nelle ultime partite non siamo riusciti a fare, e proveremo a farlo già dalla prossima. Pazzini o Di Carmine, o magari tutti e due insieme, dal primo minuto a Venezia? Ma loro sono due ragazzi, come abbiamo detto prima, che fanno parte del gruppo di giocatori forti che abbiamo, e che quindi sicuramente saranno protagonisti di questo campionato. Per quanto riguarda la partita di domenica non ho ancora deciso, ma sono convinto che sarà importante per noi presentarci da squadra e che, come ripeto spesso, saranno importantissimi gli undici giocatori che inizieranno la partita, ma come è capitato spesso saranno determinanti i giocatori che entreranno. Davidovic lo vedi più come difensore o come centrocampista? Ma io ho domande sempre molto mirate. A me a due giorni dalla gara diventa difficile rispondere e darti una linea, perché ovviamente abbiamo ancora due allenamenti e quindi non ho ancora deciso. Questa è una domanda un po' più vaga e per me Pavel è un giocatore che ha delle caratteristiche importanti. Poi le caratteristiche devono essere messe a disposizione della squadra, quindi è importante capire chi sono i compagni che gli giocano intorno, quando gli giocano intorno, perché lui è in grado di poter ricoprire sia il ruolo di centrocampista che quello di difensore, penso con la stessa produttività. Chiudiamo con una battuta il mio intervento. abbiamo finalmente vinto a Cosenza, tra zero a tavolino ieri bocciato il ricorso del club calabrese che adesso tramite il loro presidente hanno detto che vorranno appellarsi perfino ai coni. Insomma non gli è andata giù di averci fatto fare tanti chilometri per nulla e soprattutto di essersi presentati in una situazione professionisticamente parlando a dir poco insufficiente. Ma è un discorso che abbiamo affrontato poco, ma chi c'era sa quali sono state le nostre modalità in quella giornata, perché avremmo potuto e voluto provare a spostarla. Poi sono successe tante cose, ora il campionato è andato avanti, vedremo cosa succederà, perché qua ci sono tanti appelli, corsi e ricorsi, quindi noi siamo concentrati in quello che stiamo facendo perché abbiamo l'opportunità di poterci rifare dopo due partite andate storte e l'intenzione è quella di provarci da subito. Grazie. Ciao mister, ben ritrovato. Ricordi se Silvestri facesse un'uscita come quella che fece Zenga su Canigia nel finale del momento che avevi 13 anni, te la ricordi bene? Sì, me la ricordo, sono passati tanti anni, insomma. Ricordi, ricordi, l'avrai vista quella partita, dove eri, quando l'hai vista, insomma tu a differenza di... Sì, sì, ora sinceramente mi hai colto un po' la sprovvista, però ero un ragazzino, ero giovane, facevo il tifo come tutti i ragazzini, appassionati di questo sport e sicuramente quello è stato un momento che ci ha portato alla delusione perché avremmo tutti quanti voluto fare una partita diversa e provare a vincere per giocare la finale, invece non ci siamo riusciti, però ora sono passati tanti anni e abbiamo altri pensieri, ovviamente i ricordi rimangono, però siamo proiettati a quello che dovrà essere e non a quello che è stato. Magari Zenga ti dirà mannaggia tu l'hai vinto il mondiale, io no, insomma. Ma poi semmai la prossima conferenza ti confermerò questa riflessione. Che allenatore è lui? Che tipo di allenatore è proprio? Ma non lo conosco bene perché non ho mai avuto il piacere di poterlo seguire, non ho idea di come potrà presentare la squadra contro di noi, però questo per noi non deve essere nessun alibi perché affronteremo una squadra che ha degli interpreti forti, che ovviamente ritrova l'entusiasmo con un cambio e che non stava facendo un buon inizio di campionato, però sicuramente ci sono tutti i presupposti per poter cambiare la rotta, ma noi ci vogliamo presentare per fare risultato perché ci manca da due partite e sicuramente vogliamo farlo a partire dalla gara di Venezia. E' presto, perché prima l'hai detto anche ai colleghi, però pensi di avere una squadra formato crotone o pensi di aspettare un po' più il Venezia? Cioè pensi di ragionarlo un po' di più questa partita o pronti via, vuoi metterli da? Ma noi abbiamo un modo nostro di giocare, che quello rimarrà, poi ovviamente gli avversari non sempre ce lo permettono, vogliamo affrontare le partite con determinazione, con ferocia, per provare a giocarle tutte quante e cercare di vincerle. A volte ci si riesce, altre no, però faremo di tutto per uscire dal campo con un risultato positivo. Ti stai tenendo calmo di Carmine perché dalla partita con il Cosenza non era in formazione e dall'ora che non l'abbiamo avuto a disposizione, quindi immagino che per lui ci sia la voglia comunque davanti a un pubblico così importante, in un derby, fuori casa, di essere protagonista. Ma siamo un giocatore importante per noi, peccato averlo perso per diverse giornate, è tornato a disposizione e sono convinto che farà bene insieme a tutti i suoi compagni. Grazie. Grazie.